Grazie Minimale lento, sempre lì, ma... Minimale lento. 5. Minimals. 400. 200. 100. 50. 40. 30. 20. 10. Spide the drive. 100. 100. 50. 80 knots. 60 knots. 60 knots. I have to call here. Siamo arrivati prima a destra, contact ground, 1-2-1, 9-9-5 Siamo arrivati, bravo Paena Posta 9, diciamo online, è buona ganata Scimosa, sì, è il testo del bombante della terra Dalla Poligrand 12.93, liberato a 0.6, 24 Dalla 2.03, a destra per il 18 Bene, destra 18, 12.93 Andiamo a 2-3, si può muovere Prendere il parteggio, lo vediamo, di sotto gli allievi, siamo cimpegnati Allora, ritratto da 24, 1-2-6 Siamo arrivati, è il testo del bombante della terra Siamo arrivati, è il testo del bombante della terra La stessa è tutto libere, la superficie è entrate in attesa Ok, l'acqua pure in parte F***ing break sets 1, 2, 3 2 and shut down F***ing set, please Allora, 10 packs sono tutte off, tranne la testa Gli engine anti-ice sono slow, beepies e fly the red, però mi sembra non so A tempo che parla, mamma Easy, 3, 5 Puoi disarmare e aprire, grazie 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 Grazie